Iconi e Brownie ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Brownie Oggi ragazzi andremo a fare una roba che per me sarà abbastanza difficile Vale a dire giocare da MK Io di solito su Fortnite gioco sempre su controller, diciamo su FAD Stavolta voglio provare da MK Ho già giocato da MK e diciamo che almeno so costruire e sparare Però per essere bravo proprio no ragazzi, per essere bravo proprio no Ok, eccoci qua No, 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 spai, spai Ah ok, no, pensavo che doveva venirne nella mia casa, no, perché se veniva nella mia, cioè Cacchio, con tutte quelle che ci sono proprio nella mia dovevi venire Eh, e che cacchio Cioè Dico che non si fa così, però c'è un attimo di gentilezza Per uno che gioca da MK Eh, ci sta raga Allora Vediamo se sono usati questi crash pad Allora 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 Grazie Allora, ok, c'è ancora la gesta qua Vieni, la possiamo pure prendere Ehm, vabbè, mi chiede Somma, mi sa decidere Io te ne sono pagato Ehm Eh, oi, potremmo provare a andare a giudicare Qualcuno, magari per vedere anche se ha degli scillini Però Sembra se riusciamo a killarlo Aiuto, raga Dai, me la vedo già brutta Dai, mi sa che Come vi ho detto Altro che cheat Qua finisce proprio male Ecco Ah Wow Perfetto Si può notare solo come ho usato i crash pad Allora Andiamo Ma sì, dai, andiamo gli addosso, ragazzi Come va, va, sta partita Dai, dove siete tu, sì Dove siete Dai, eh Vente Eh, ma What? Ma sta laggando un casino quello? No, no, quello Allora Qua c'è qualcun altro Spero di sì A parte Basta solo che non mi parte una cecchinata E adesso Mi va Mi va più che bene adesso Cioè Non mi dica Forse in questa casa qua Hanno Feitato Andiamo a vedere Aiuto Oh my god Raga Ho preso uno spavento Aiuto Aiuto Eh, va bene E va bene E va bene Eh, io sono morto Per dirvi Io sono morto Io sono morto, ragazzi Aiuto Aiuto Ragazzi Ho finito i materiali E va bene Perché? Perché? Va bene Va bene La prima La prima E sempre Le poveracce Adesso Adesso giocheremo meglio Era tutta una finta Questa ragazzi Era solo uno scherzo Adesso Adesso Un impegno Un impegno, sì Forse Anzi Ci provo Allora Stavolta ragazzi Direzione Sabbie sudate E vediamo un po' Come va A finire Allora Vediamo un po' Un medico Un medico Un cecchino Buono Una cesta Una mitraglietta E due mediti No Ho sbagliato Anzi Ok 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 Allora Un'altra cesta qua Ok Perfetto Una mi 16 Ci sta Ci sta Ci sta Dai E manca solo un pompa E principalmente Sarei a posto Ah giusto E lo shield Ovviamente E materiali Ma vabbè Per quelli Vediamo più da un po' Ora Oh Buono Buono Questo qua Buono Ehm Basta solo che Troviamo dello shield Please Please Dello shield Non chiedo tanto È solo dello shield Raga Non credo Dice tanto Queda Dice È un altro Mediti Ah Ok Aiuto Dali Un mediti Un mediti Dai Un mediti Traz Chega un mediti Ok Trae un pompa Ok Menino Una mi 16 Perfai 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 Iniziano Qua c'è una cesta Ma li troviamo mediti Allora Vediamo Si Già Troviamo mediti Due Noi li troviamo Deci Detro Aspetta Stanno Se non è più prima Doci Di 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 Allora Dai Di Di Si Si Perfetto Perfetto Ok Ma stanno Fettando No Guardate Sono Che non li vedo Dai No Sì Sono dentro L'hotel Però Non so Niente Ok Cacchio Non è Pottone Vabbè Troviamo Un attimo Noi Allora No Quindi Non so Voglio La Controller E Tutto Un'altra Cose Qua Iido Da qua Da qua Da qui Li blocco Un attimo La Porta Raga E' qua E' qua E' qua Aiuto Aiuto Sto Sto Comprendo Tutte Cassettine Easy Munizioni Potrei provare A farlo Così Raga Ma E' qua Sto 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 Quinti Sto forse sono stato un poco attivo a non dargli 5 ma vabbè dai non volevo rischiare perché ci sono anche i fake che vogliono il 5 dopo di kill hanno in testa anche fatto una missione straperfetto di munizioni siamo mesci direi benissimo niente male per niente allora ecco le ce ne sono anche qua perfetto quindi e i player basta sono finiti uh usciglione perfetto questo qua mi fa molto comodo questo mi fa molto comodo diamo un attimo un build ok non farebbe male non farebbe male ma dobbiamo anche player di quelli scarsi però non vuole gente forte finchè sono mk quindi andiamocene esattamente a bordo di snack ragazzi uno la potrei provare a cecchinarlo ma non mi fido non mi fido breve di sicuro svegli dei colpi o se lo prendi il ciro come dovrebbe cercare mi spizzerebbe in due sempre se non è forte no sempre se è forte se non è forte e allora quasi quasi faccio diamo il tinettro qua io mi prenderei quasi quasi eccolo qua perfetto perfetto proprio easy shower vediamo un po' cosa c'è qua dentro beh buono 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 perfetto sto pompa qua molto buono lo so usare perché lo so usare però da controller però vabbè dobbiamo vedere se lo sappiamo usare anche da mk quindi proviamoci soprattutto anche perché è leggendario quindi neanche è epico ed è molto buono molto molto buono quindi il tosso di prima che fine ho fatto sapete che non so se l'ho andato a mangiarsi un gelato non so se l'ho andato a mangiarsi uno di quei gelati ma uno di quei di quelle montagne di quelle montagne soft ragazzi no vabbè mi sono fatto venire fame da solo e vabbè capite 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 allora due cacchi sono che stanno fidando uno che ha preso l'elicottero ok e vabbè e sono stupido eccolo la copertura e un altro la eccolo la quello di prima vai aiuto eh raga qua sbagli il colpo vedete come sbagli il colpo oh no si invece l'ho preso no non ci credo e vabbè e c'è un altro che prova a cecchinarmi non so da dove ecco oh mio dio ma c'è un matic it là perfetto mi culo mi culo mi culo ok ok oh mio dio ecco ecco si ok che culo forse era anche un bot però dai gg comunque per noi gg comunque per noi ok quelli la secondo me sono bravi sono bravi non c'è da dire e quindi direi che me ne mi discerrei e andrei via quasi quasi si andrei via un attimo l'ultimo perché comunque non ho tantissimi ultiali quindi allora dobbiamo andare all'autorità eh vabbè perché fare il giro non mi sembra neanche il caso quindi andiamo c'è la gg andiamo guardate anche le scene completate là c'è uno c'è uno c'è uno c'è uno 31 chilato si 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 grande 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 allora eh tanto qua c'è l'acqua quindi perfetto andiamo a vedere il loot che aveva oh mio dio quanta roba quanta roba ragazzi ok le splash molto buone va bene la chiave ok questo ma va bene per due splash abbiamo anche questo buonissimo anche quello però mi trovo meglio con questo c'è ancora qualcuno raga io quasi quasi mi prenderei light questo questo ne aveva di materiali boia se ne aveva ok ok spacco la bandiera spacco la bandiera dell'autorità adesso piazzo la bandiera brownies viva la bandiera brownies quella là vale molto di più vale veramente veramente di più allora 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 ma oh cacchio e vabbè no ho bildato male ho bildato male dove che è sta provando a salire spero adesso dov'è oh mio dio no raga secondo me sta provando a salire questo non so dove sia non so dove sia oh mio dio è la safe è lontana e vabbè facciamo una roba ragazzi aspettate oh andiamoci via raga no 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 lasciamo là quello no 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 non hai prezoni non hai prezoni ci tocca andare per di qua eh vabbè non c'è via perché se no ci mettiamo in prezoni ma sarebbero ancora più fastidiosi andiamoci nel partito i player oh mio dio sono due last in 5 ok la top 5 ce l'abbiamo però gli altri player quello che c'era l'autorità non sa che prende anche lui la mesampo oppure viene a piedi buona una lui e verrai se c'erano lungo la strada che aveva provato a schinarli e a prenderli che però non è riuscito e non so neanche quello che ti ha fatto forse lui che è morto potrebbe essere ok allora qua mi pare che non c'è nessuno quindi io mi prenderei andrei anche qua mi prenderei un po' d'altezza ci sarebbe una minita più letta non sarebbe male però ci sarebbe freddo in questo caso allora andiamo andiamo ecco andiamo su questa montagna che abbiamo anche una visione ancora migliore e proviamo a vedere che è fina fatto con l'autorità normalmente oh mio dio oh mio dio oh mio dio oh mio dio mi sa che ormai sono già scesi peccato peccato però a quanto pare per fare quel build fight sembravano abbastanza forti quindi direi di far nati una roba mettiamoci qua vediamo dov'è la prossima save è qua quindi la perfetto e non abbiamo più ciò muoverci purtroppo eh però vabbè stiamo a vedere vediamo un po' intanto posso pure togliere il ping allora vediamo se c'è gente qua sembrerebbe di no qua c'è una bimba shield con del loot ok un cecchino perfetto perfetto è un bimbo fucile perfetto raga perfetto re 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 perfetto lo vorrei di farci più fortino qua tanto aiuto eh vabbè ok dov'è 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 che sono non vedo niente quegli alberi vabbè a sinistra c'è qualcuno sì 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 là c'è uno ma 116 sì grande 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 perfetto raga oh mio dio e vabbè quello là oh mio dio siamo rimasti in due siamo rimasti in due eh cacchio aiuto 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 ancora la misa si stava curando per per il fatto vediamo se sbuca fuori dopo essersi curato dai 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 oh mio dio ok ero un altro oh mio dio devo anche andare in safe eh che cacchio aiuto 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 no un'edita ok quello ho boxato raga spero che sia quello ok raga anche secondo la skin sembrerebbe bello forte ok ok un'edita 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 che fine che fin'abbia fatto che fin'abbia fatto mi ha fatto cadere mi ha fatto cadere 150 un'edita 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 ok 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 un'edita 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 oh mio dio oh my god aiuto 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 non ho cure raga non ho cure nel senso cure mediche un'edita aiuto aiuto raga paura paura raga io oh mio dio non so che cosa fare raga sono una difficoltà abbastanza ampia e va bene oh mio dio raga ho praticamente 100 di vita e quella è anche scegliata gli aiuta essere quelli belli cacchio aiuto gli aiuta stare in basso in sto caso aiuto aiuto qua mi sa tanto che va a finire male raga qua va a finire male oh no 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 un'altra jumpa aveva che cacchio raga la safe si sta perdendo nei ne e va bene eh è peccato GG comunque ragazzi Ci siamo impegnati E' stata comunque una bella partita E GG comunque Va bene dai Per almeno una buona posizione Da MK Per aver giocato da MK Io almeno penso di aver fatto un buon risultato Al punto che sono Insomma da giocare da MK Quindi sono contento Sono veramente veramente contento Vabbè ragazzi Adesso io vi saluto Spero che il video vi sia piaciuto E noi come sempre ragazzi Ci vediamo ad un prossimo video